Regna il fattore campo nei due anticipi della quinta giornata in Serie C. Il Montarossi di Mister Menichini torna alla vittoria in casa dopo tre giornate e piega grazie al solito Rocco Costantino e la Virtus Franca Villa, 2-1 per i razziali. In un match che ha visto l'edrettore di gara, grasso della sezione di Arena Irpino, assegnare ben quattro calci di rigore, due per parte. I biancorossi li hanno realizzati entrambi con il capocannoniere del torneo, mentre i brindisini soltanto uno con il patirno. Alia inoltre a 10 minuti dalla fine è stato nelle file locali decisivo nel parare il secondo rigore dell'attaccante ospite. 1-1 invece al Dei Olivi di Andria, la fidelista di Cudini non si sblocca ma muove la classifica. Il Picerno di Longo strappa un ottimo punto, le due reti entrambe nella prima frazione. Vantaggio locale griffato da Urso al minuto 32, il pari dei Lucani puntuale, 10 giri di lancette dopo. L'ho realizzato l'ex attaccante della Juve Stabia Golfo. Il Montarossi con i tre punti agguanta in classifica i Virtusini di Calabro, mentre Picerno e Fidelis con il punto di giornata arrivano chi a quota 5 e chi a quota 3.